Olo da Milano continuerà a occuparsi di Torino da martedì a qualsiasi sia il risultato, le lo dico in maniera molto seria, lo troveremo sui banchi dell'opposizione qualora non dovesse vincere, se diventasse sindaco ovviamente sì per 5 anni, ma lo troveremo anche nei banchi dell'opposizione proprio per questo impegno che raccontava adesso. Ho già avuto modo di dire che assolutamente sì, io lo faccio perché sono convinto di poter fare del bene per la mia città, sia che vada ad amministrarla, sia che debba essere poi sui banchi dell'opposizione. I prossimi 5 anni sono troppo importanti perché non ci si stia tutti insieme e si cerchi di portare a termine di realizzare i progetti migliori per la nostra città.